Ciao a tutti, ragazzi! Bentornati o benvenuti sul mio canale! Io sono Lori ASMR. Allora, spero che siate molto bene. Io in questo periodo, so che lo dico sempre, ma sto pubblicando un po' poco, perché appunto sono molto sotto con gli esami, quindi non ho tantissimo tempo, diciamo. Spero più avanti di liberarmi un po'. In qualsiasi caso, oggi andremo ad aprire un pacchettino insieme, che in realtà vi svelociata subito cosa c'è dentro. Praticamente l'avrete già letto dal titolo, ma qui dentro c'è la prima agenda ASMR al mondo. E niente, sono molto contento di... Ecco già un filettino. Sono molto contento di averla ricevuta. Praticamente Federica, del canale Fairy ASMR, ha creato questa agenda, questo diario agenda, interamente dedicato all'ASMR. e ha incluso in questo progetto anche alcuni ASMR artist, tra cui anche me. E sono veramente tanto, tanto, tanto felice di questa cosa. Uno, perché mi sono sentito comunque parte della community. Due, perché penso che sia un progetto veramente bellissimo. E già quando me l'aveva detto all'inizio, insomma, mi ispirava molto come progetto. Ma quando addirittura poi mi è arrivata e l'ho un po' sfogliata così... Tutto è troppo carina. Ovviamente io l'ho già aperta, l'ho già sfogliata. Però volevo, diciamo, riaprirla insieme a voi. È ancora dentro la plastica adesso. Perché ce l'ho rimessa dentro. Comunque l'agenda è questa qua, con questo... con questi colori che ho cercato anche di abbinare con la maglia. Un po' viola, un po' azzurra. Molto figa comunque, secondo me. Come copertina. C'è di questo colore e anche in un'altra versione che dovrebbe essere azzurra, se non sbaglio. E se fate il preordine, praticamente potete scegliere quale dei tuoi colori poi sarà quello ufficiale, diciamo. E ovviamente vi lascio il link in descrizione. E vi lascio anche il link del video dove Federica del canale FedeSMR, insomma, ne ha parlato. Perché sicuramente ne ha parlato meglio di quanto possa fare più in questo video. Comunque già da qua, a me è già già vederla da fuori, mi è piaciuta molto. Sia per i colori, sia per com'è fatta. Il fatto che abbia l'anelle secondo me è molto più comodo. Cioè, questa centella è perfetta per l'SMR in tutto e per tutto. Qua dietro c'è scritto quella che stai sfogliando. È la prima e unica. l'agenda ASMR al mondo. Secondo me è stata davvero una bella, bella idea. E poi guardate com'è piena. Perché comunque già non è semplicemente un'agenda, diciamo, dedicata all'SMR. Ma è proprio un'agenda interattiva. Infatti, anche, diciamo, il fatto di averle su partecipi molti ASMR artist in questo progetto ci ha inclusi, diciamo, con delle trocce audio. che fondamentalmente, ovviamente, io ho registrato la mia di 5 minuti, ma ci sono anche quelle di altri ASMR artist. E, praticamente, dentro l'agenda ci sono tanti QR code, QR code, QR code, da scansionare. e per andare appunto a sentire intanto queste tracce audio. Ma ci sono anche tanti altri QR code per altri contenuti interattivi, dedicati sempre all'SMR, ovviamente. Comunque, dentro è mega carina. Perché, vabbè, praticamente è... Wow. Praticamente, cioè, oltre ad essere dedicata comunque al relax e all'SMR, vi faccio, per esempio, vedere un paio di pagine. Ci sono un sacco di disegnini, video ASMR preferito a livello di stress, qualità del sonno. Ci sono tanti... cioè, ecco, sparsa di disegni, ecco, sparsa di frasi e che mettono positività, comunque. E quindi, oltre proprio ai contenuti ASMR rilassanti, trasmette positività. E, secondo me, questa è una cosa super bella. E poi, sicuramente, preferisco un'agenda con i disegnini, che è un'agenda un po' più spoglia, ecco. Io sono un sacco contento di averla ricevuta perché... Vabbè, poi ovviamente questa inizia da settembre 2020. Però io, quando praticamente preparo gli esami, mi faccio sempre i planning dello studio in cui decido ogni giorno che argomento, quante pagine c'è tra studiare. e ovviamente devo scrivermeli perché sennò è come non farli. E un'agenda con i giorni, ovviamente, mi fa super comodo, solo che io non ne ho praticamente in casa. Ho magari quel formato molto molto piccolo dell'erbolario che però, insomma, un'agenda così grande mi fa molto più comodo perché riesco a scrivere molte più cose, ecco. Poi, vabbè, ovviamente fa comodo, magari, agli universitari a chi va a scuola per scrivere le cose di scuola, ma anche per scrivere i propri impegni. Infatti io, nonostante... Già comunque vado all'università. Penso che lo usarò anche altro per scherci, se prendi impegni perché sennò mi scorda tutto. Ah, tra l'altro, ragazzi, per il preordine manca poco, quindi se volete preordinare, fatelo. Ma veniamo a una parte bellissima di questa agenda che appena l'ho vista ho aperto su questa pagina. Allora, praticamente nell'agenda, oltre a tutti i QR code, le frasi positive che dopo ve ne leggo comunque un paio, e ci sono delle esperienze ASMR, una al mese. E questa, praticamente, è una pagina in oro graffiato. Cioè, che fa un suono bellissimo, tipo mentre siete lì che non so che studiate. Cioè, questa pagina è troppo bella. Oltre a questa, ovviamente, ci sono tutte diverse le esperienze ASMR che ci sono. Però c'è... che relax! Cioè, l'ho trovata un'idea molto carina. Sono contento perché, insomma, quando me ne aveva parlato, come vi ho detto prima, mi sembrava proprio un bel progetto. E sono contento che la realizzazione del progetto sia riuscita molto bene. Quindi sono molto contento, insomma, per lei e per me che l'ho ricevuto. Tra l'altro, non l'ho neanche detto nel video, non l'ho ringraziata pubblicamente ancora per l'agenda. Però lo faccio adesso. Cioè, comunque, gliel'ho già scritto in chat. Però, se stai guardando questo video, grazie di cuore. Sono stato davvero contento, oltre ad aver ricevuto l'agenda in sé, di essere stato partecipato. Ci becco. Tra l'altro, raga, se vedete le mie unghie un po' blu è perché ho rifatto la tinta, che sono un po' più scura adesso e quindi c'ho senza farlo opposto ogni volta che me li tocco poi un po' mi rimane. Quindi scusate. Comunque sto cercando di smettere di mangiarmi le unghie. Spero vivamente di riuscirci. Per ora sono tipo 7-8 giorni. È tanto per me. Ma passiamo a leggere qualche frase. Andiamo al mio compleanno l'8 agosto. Agosto, costo, costo, costo. Domenica 8, costo, 2021. Solo se amiamo, accettiamo e approviamo realmente noi stessi, così come siamo, tutto andrà bene nella nostra vita. L'approvazione e l'accettazione di se stessi qui e ora sono le chiavi per arrivare a cambiamenti positivi in ogni aspetto della nostra vita. Louise. Ehi. Frase fantastica. E super in linea con la mia persona. Che coincidenza che sia proprio nel cielo del mio compleanno. Adesso apro una pagina a caso e ve ne leggo un'altra perché secondo me sono troppo carine queste frasi. Quando devo fare un video con delle frasi motivazionali le prendo da qui. Inseguo i miei sogni ma fucco dalle mie ossessioni. I sogni liberano la mente ma le ossessioni la imprigionano. Emanuela Preta. Con un coscinino qua, molto carino. Io ragazzi vi lascio con un po' di tapping su questa agenda. Spero che questo video vi abbia rilassati e spero che l'agenda vi sia piaciuta. Emanuela Preta. Forse... Emanuela Preta. Emanuela Preta. Emanuela Preta. Pagare la jugela. Emanuela Preta. Troppo figo il fatto che abbiamo un'agenda per la nostra community, ecco. Poi ovviamente è per tutti, però ovviamente le persone che seguono l'SMR possono apprezzarla a tutto tondo, magari. Alla prossima. Un po' relax a tutti, un po' relax a tutti.